e vorrei leggervene l'elenco. Sicuramente vi suonerà familiare. Potrei presentarvelo in modo nuovo, con idee nuove, ma preferisco darvi il mio elenco. È un elenco che potete usare nel training, che potete trasmettere agli altri. Eccolo. Le grandi D valgono per ogni aspetto della vita, in particolare per Herbalife. Per noi è difficile parlare della vita senza parlare di Herbalife. Vita spirituale, vita sociale? Herbalife. È una parte importante di noi. Fa parte della nostra essenza, di ciò che ci accade. Comunque, ecco l'elenco. Le grandi D. La prima è decisione. Ne abbiamo parlato brevemente nel discorso che abbiamo fatto prima. Processo decisionale. Oggi è una giornata straordinaria. Quello in cui decidiamo di non essere più quelli di prima. Di passare dalle tenebre alla luce. La decisione di passare dall'inazione all'azione. La decisione di operare la svolta. La decisione di cambiare. La decisione di iniziare una nuova vita. Non immaginate che prospettive possa aprire una decisione. Vivere con intensità. Prendere decisioni. Poi c'è il desiderio. È un mistero da dove possa nascere. Perché c'è gente che nutre i desideri insoliti? Perché delle persone piegano un po' per maturarli? Io sono convinto di una cosa. Sono assolutamente convinto che grandi desideri in ognuno di noi risieda la possibilità di coltivare un forte desiderio che getti le basi per una vita straordinaria. Esiste in ognuno di noi. A volte viene represso. Anche brutalmente. A volte viene negato per circostanze contingenti. O per influenze esterne. O per una situazione familiare particolarmente critica o difficile. In questi casi il desiderio resta assopito. Non viene mai alla luce. Ma questo non significa che non ci sia. Herbalife è fantastica perché riesce ad arrivare a queste persone il cui desiderio non è mai venuto alla luce. Non hanno mai avuto qualcosa per cui far battere il cuore. Qualcosa in cui sperare. Noi siamo arrivati a queste persone. Eppure loro arrivano a noi. Comunque sia, abbiamo la grande opportunità di risvegliare il desiderio in qualcuno. Di farlo fiorire, maturare, trasformarlo in una forza incredibile. Certo, sono loro che prendono la loro decisione. Ma a parte del mio merito va anche a noi perché li abbiamo trovati. Abbiamo aperto la porta. Abbiamo aperto la finestra. Abbiamo dato loro un volantino. Li abbiamo invitati a un meeting. Facciamo in modo che le nostre parole inneschiamo un processo da cui scaturirà un desiderio che cambierà per sempre la loro vita. La prima D era decisione. La seconda era desiderio. Vediamo la terza D che rende possibile ogni cosa. E trasforma l'immaginazione in realtà è la disciplina. Per alcune persone disciplina è una brutta parola. Per carità non parlatemi di disciplina. In realtà la disciplina è una grande forza creativa. Con la disciplina si costruisce una carriera. Si raggiunge il benessere. Si dà stabilità a un matrimonio. Con la disciplina si creano amicizie che non finiranno mai. Si acquisiscono nuove capacità che tradotte su una scala vasta possono arrivare al mondo intero. La disciplina è alla base della musica. La grande musica è impensabile senza disciplina. Non a caso si parla di discipline artistiche. L'architettura e la musica. Suonare uno strumento. la scultura. La pittura. La scrittura. La composizione. Sono tutte discipline artistiche. Il fatto che siano chiamate discipline significa sì che la disciplina è una condizione necessaria, ma significa anche che la disciplina spalanca le porte. Al processo creativo. Al fatto di creare qualcosa dal nulla. Di trasformare l'immaginazione in realtà. Dovete immaginare ad apprezzare la disciplina e ad accogliere la disciplina. Ecco una buona domanda da fare a noi stessi. Quale altra disciplina potrebbe dare una nuova dimensione alla mia vita e ad aiutarmi a produrre l'immaginazione in realtà? Io ho dovuto apprendere la disciplina di usare il linguaggio per parlare in pubblico. Ci è voluto del tempo. È stato difficile. Ho commesso degli errori. Non riuscivo a organizzare i miei pensieri. Alcune idee mi sfuggivano di mente. Ricordo ancora tutta la fatica dell'apprendimento. Mia madre mi insegnava il pianoforte. Mano sinistra. Ci riuscivo bene. Adesso la destra. Le scale non erano un problema. Poi oggi usiamo entrambe le mani. Ma come si fa? Con una mano era facile, ma con l'altra pure. Ma insieme guardavo una mano, guardavo l'altra e alla fine sono riuscito a usarle insieme. Avevo imparato un'altra disciplina. Ci riuscivo. Poi mi disse oggi leggiamo lo spartito e suoniamo con due mani. Questo è proprio impossibile. Invece un occhio allo spartito, un occhio alla mano, un occhio all'altra e alla fine ci sono riuscito. Poi mi disse oggi guardiamo il pubblico. Leggiamo lo spartito e suoniamo con due mani. Di nuovo pensai che fosse una pazzia. Troppe cose da fare tutte insieme. Invece in breve tempo riuscivo a guardare il pubblico. Leggere lo spartito e suonare con le due mani. La disciplina a quel punto era diventata una gioia. Oggi suona il piano per mio piacere personale, non di fronte a un pubblico. Ma è eccitante lo stesso. Imparare nuove discipline per creare gioia, per creare un quadro, creare un'orchestra, creare una vita erbalife. Mark ha dovuto mettere insieme una serie di discipline. Integrare le une con le altre. Unire tanti elementi fra di loro. I prodotti, il marketing, le persone, il sistema di supporto, i raduni, le stravaganza. Tutti questi elementi dovevano combinarsi e incorporare le discipline altrui con le proprie, sempre in modo disciplinato. In modo da creare un'azienda senza disciplina non esiste impresa. Senza disciplina non c'è una solida struttura. Senza disciplina non c'è musica. Senza disciplina non c'è benessere. Senza disciplina non c'è beneficio. Non c'è futuro. Perciò la disciplina è tutto. Se parliamo di immaginazione, di cose in cui crediamo da trasformare in realtà, vediamo le altre voci. Uno, decisione, due, desiderio, terzo, disciplina. La quarta componente è divenire. Il segreto è essere tutto ciò che si può essere. Non so quali siano le vostre doti, né siano le vostre capacità, ma c'è una cosa sulla quale probabilmente non sbaglio. Siete un po' indietro, verso una piena realizzazione delle vostre potenzialità. Immagino che sia così. Per qualcuno di voi forse non è del tutto vero. Se analizzo la mia vita personale so che, come chiunque altro, sono portato a rimandare. Avrei dovuto scrivere 30 libri e invece ne ho scritti solo 4 o 5. Avrei dovuto fare un sacco di cose, ma non le ho fatte. Mi sono lasciato distrarre come capita a tutti. Cosa sarei potuto diventare? Cosa sarei potuto diventare? Avevo un carissimo amico, l'ho perso e morto a 53 anni. Un giorno aveva il vizio di bere. Beveva un po' troppo, ma faceva un sacco di cose. Era un costruttore, un sognatore. Faceva davvero mille cose. Ma per colpa dell'alcol ha vissuto in una specie di nebbia per anni e anni. Circa sei anni fa. era al circolo nautico. La mente è un po' annebbiata e all'improvviso disse, chissà cosa avrei potuto realizzare in tutti questi anni se non fossi vissuto in questa nebbia continua. E aggiunse, ora basta. Ha vissuto gli ultimi sei anni di vita da uomo libero. In questi ultimi sei anni di vita ha fatto cose incredibili. Siate quello che potete essere. Non fatevi affossare dall'abitudine. Non permettete a niente di stogliervi dal pieno sviluppo di quello che avete e che potreste essere. Dove potrebbe arrivare il vostro cuore se ne aveste la possibilità e avreste la disciplina, la volontà? Cosa potreste diventare? Quanto riuscireste a guadagnare? Che forma fisica potete raggiungere? Quanti libri potete scrivere? Quante poesie? La mia nipotina, Natalie, ha 11 anni. Scrive delle poesie meravigliose. Un giorno le pubblicherò. Anche il suo fratello Nathaniel è un grande talento artistico. Credo che pubblicherò le poesie di Natalie con le illustrazioni di Nathaniel. Hanno 11 e 12 anni. Hanno fatto progressi enormi in pochi anni. Io mi chiedo, dove arriveranno? Cosa riusciranno a realizzare? Dovrei dirvi una cosa. Se siete arrivati a un punto morto, in qualunque momento del vostro cammino, intervenite subito. Cercate di capire se esiste un modo per accelerare il cammino verso una piena realizzazione delle vostre potenzialità. La vita in fondo è proprio questo. Diventare tutto ciò che possiamo essere. Il pieno sviluppo del proprio potenziale è la prima cosa. La seconda è un suo saggio uso delle proprie risorse. È il senso della vita, il pieno sviluppo. La parola successiva è direzione. Frase da annotare. Prendiamo la direzione che abbiamo davanti. Fate in modo che la vostra visione sia chiara, perché è lì che siete diretti. Volenti o non lenti, il vostro cammino va verso l'elemento predominante della vostra visione. A volte è bene mettere in ordine delle idee affinché la direzione sia più chiara, più agevole da percorrere e ci porti veramente dove vogliamo. Una bella frase che tutti conosciamo. Tra cinque anni sarai arrivato. Il punto è dove. Veramente non lo so con esaltezza. È bene chiaritevelo. Altrimenti rischiate di finire la benzina prima del tempo. Non rimarreste fermi, ma sicuramente non arrivereste a destinazione. Bisogna prendere subito la giusta direzione. Andiamo avanti. Devo sbrigarmi un po'. La prossima definizione. Una frase che uso da tempo. I dettagli fanno il capolavoro. Definire bene le cose e dare loro chiarezza, questo è importante. E poi il dilemma. Ci troviamo spesso di fronte a dilemmi. In un dilemma l'importante è stabilire cosa che conti e cosa che non conta. Ad alcuni perché non possiamo rispondere, come al perché della vita. Ci sono dei misteri che devono rimanere tali. Fanno parte dell'esistenza. Ma sono misteri. Per quanto ci sforziamo non ne vediamo a capo. Per comprendere un dilemma dovete dare il meglio di voi. Ma non siate troppo severi con voi stessi. Se non capite tutto, nessuno riesce a comprendere tutto. Che il sistema resti tale, almeno in parte, cercate di capire più che potete. In funzione della vostra vita, dei figli, del lavoro, del futuro. Ma lasciate che i misteri restino misteri. Lasciate che alcuni enigmi restino enigmi. Che alcuni perché restino senza risposta. Vi domandate perché? È solo uno dei tanti perché. Passiamo a delusione. Non fatevi spiazzare. C'è un bel proverbio che dice, non costruire casa sulla sabbia d'estate. Quando il cielo è azzurro e le nuvole sono bianche. È facile illudersi. È tutto così bello. Costruirò la mia casa sulla spiaggia. Un errore fatale. Quindi di tanto in tanto è bene chiedersi se non stiamo per incappare in una delusione. Tempo fa scrissi, l'affermazione senza disciplina è l'anticamera della delusione. Dobbiamo affermare la nostra disciplina. Dobbiamo affermare la verità e non illuderci. Una grande preghiera dice non ci indurre in tentazione per non occorrere in una delusione. Stiamo cucinando così avrà un buon sapore. Meglio dire adesso avrà anche un buon sapore. Ma come diceva il profeta diceva le mie viscere si riempiono di amarezza. La prossima. Destinazione. Dovete avere ben chiaro dove volete arrivare. Herbalife è la più ricca fonte di stimoli, specie negli affari quando si tratta di scegliere una buona destinazione. Dove sarò tra sei mesi? Quali risultati tra sei mesi? Conquistare una nuova spilla? Dove voglio arrivare nel contatto con gli altri? Nella capacità di influenzare gli altri. Tra un anno, tre anni, cominciate a definire una destinazione, a fare chiarezza nei vostri sogni. È bello. È bello sognare di avere successo. È bello sognare di essere in forma e pieni di energia. Ma fate chiarezza sulla meta da raggiungere perché vi aiuterà a stabilire la direzione giusta da prendere. E arriviamo all'ultima parola di vitale importanza. Chiudiamo con questa parola. Dignità. È una decisione che Mark prese agli inizi quando fondò Herbalife. Fu quella di vivere una vita dignitosa. Voleva poter dire sempre, sono orgoglioso di come ho cominciato. Sono orgoglioso di come è andata. Sono orgoglioso di aver corretto i miei errori. Sono orgoglioso di aver imparato dagli altri. Cammino a testa alta perché ho aiutato altre persone. Perché ho cambiato la vita a tanti. Perché sono arrivato in tanti paesi dove ho piantato la bandiera di Herbalife e ho reso un grande servizio. Sono orgoglioso di non essermi lasciato sopraffare dagli errori. Sono orgoglioso di poter camminare a testa alta. Perché posso dire di aver condotto con onestà ogni meeting. Ho augurato sinceramente il bene a tutti. Ho voluto creare sinceramente un sistema di vendita che preme alle persone per i loro sforzi. Voglio sinceramente migliorare il benessere delle persone e dare loro una vita più lunga e più bella. Desidero sinceramente fare tutto questo. E desidero farlo seguendo le regole. Desidero farlo seguendo i principi di dignità, rispetto della persona e rispetto dell'azienda. Apprezzo Mark Hughes ancora di più dopo questi vent'anni e lo conoscevo già da due o tre anni. Perché può camminare a testa alta. Tutti noi possiamo camminare a testa alta in questa avventura unica che si chiama Herbalife. Ma anche nella vita privata. Operate sempre in modo tale che qualunque cosa facciate, quando arriverà il momento di fare un bilancio della vostra vita, chiunque possa dire non solo hai fatto bene con bravura, non solo sei andato in altri paesi, ma l'hai fatto con onore e l'hai fatto con dignità.